ma se si un po' di motore qua a partire a partire cerca di fare una curva ok buona lì solo davanti ok perfetto pensavo che arrivava qua quando parti cerca di alzare la testa un attimo prima perché parti e poi alzi la testa e vai sempre un po' caldo prima guardi e poi vai perché anche là prima quando hai preso la pianta hai fatto il stesso lavoro